Buonasera, benvenuti, ben ritrovati, siamo nella seconda parte del secondo giorno di Digit e quindi alla conclusione, cominciamo adesso, finiremo alle 18.30. Oggi pomeriggio facciamo una sessione mista nel senso che dal punto di vista dei crediti formativi si comincia adesso e si finisce alle 18.30, è un'unica sessione però fatta da più relatori ed è tutta deontologica quindi i crediti sono anche più ricchi. Il primo relatore del pomeriggio, erano due in realtà, sul programma comunque è venuto soltanto il direttore di Ossigeno per l'informazione, l'osservatorio che tutti voi immagino conosciate e che si occupa di cose davvero importanti per la nostra professione. Quindi abbiamo Alberto Spampinato che è il direttore di Ossigeno per l'informazione e come avete visto dal programma insomma poi lui chiaramente avrà fatto delle variazioni sulla base delle cose che sono più urgenti da comunicare evidentemente ma insomma il problema principale è che la nostra categoria, quello che abbiamo voluto sottolineare nel programma della manifestazione è una delle poche categorie persino in Italia a non avere una legge professionale di tutela. E visto il lavoro che facciamo non avere una legge professionale di tutela è insomma è un bel guaio, è un guaio moltiplicato per n volte evidentemente perché la nostra è una professione fortemente a rischio dal punto di vista proprio della tutela. Ci sono stati dei casi anche molto recenti e molto pesanti uno su tutti l'avrete letto è quello di Concita De Gregorio giornalista molto nota che ha avuto e sta avendo grossi problemi per una questione che è bene che poi vi spieghi Alberto nel senso che è inutile che vi introduca io la questione ma è una questione che sta proprio dentro la matrice i contenuti più forti di quello che siamo noi di quello che è il nostro lavoro. Quindi io darei la parola ad Alberto e buon lavoro. Grazie. Grazie a Marco, grazie a tutti voi. Credo che con alcuni di voi ci conosciamo già noi abbiamo come ossigeno per l'informazione abbiamo ottenuto alcuni corsi di formazione più o meno sulla stessa tematica a Firenze, Montecatini, Siena, Arezzo e credo che ne faremo altri nei prossimi mesi per entrare più nel merito di questa questione e anche quei corsi che facciamo con l'ordine noi affrontiamo questi problemi anche sul piano pratico nel senso che diamo anche dei consigli che derivano dall'esperienza che abbiamo maturato su come difendersi meglio, tutelarsi cercare di prevenire un pericolo che purtroppo diventa sempre più difficile evitare e per i motivi che adesso cercherò di dirvi in sintesi. Marco Renzi ha detto bene in estrema sintesi il nostro di giornalisti, io sono un giornalista come voi è diventato un mestiere impossibile lo era già però sembra che la situazione stia peggiorando perché si realizza questa situazione incociliabile per fare questo mestiere nel pieno adempimento dei doveri deontologici e nell'interesse dell'opinione pubblica noi come sapete dobbiamo dire delle cose pure spiacevoli nei confronti di persone potenti non è che possiamo scegliere sempre diciamo poi quello ci resta male allora non lo diciamo cioè ci tocca farlo ebbene quando lo facciamo noi secondo la legislazione italiana commettiamo un reato quindi fare informazione e adesso lo dico così poi scegliamo è reato per cui se uno ci vuole querelare ci denuncia perché abbiamo offeso la sua reputazione offeso in termini giuridico significa danneggiato e reputazione è non quello che quel signore quel sindaco quell'assessore quell'imprenditore pensa di se stesso ma quello che pensa la comunità qual è l'opinione comune allora è chiaro che quando ci capita di dare una notizia negativa su uno di questi personaggi non so l'assessore gli hanno fatto una prequisizione perché cercavano qualcosa magari non hanno trovato niente lui preferirebbe che neppure si dicesse diceva sai non hanno trovato niente però quello è un fatto pubblico tu sei un personaggio pubblico e noi lo diciamo poi si vede se proprio la cosa finisce lì o altre cose anche peggiori che non so un sindaco che riceve un abisso di garanzia per uso distorto dei soldi pubblici lui ci giura che sicuramente lui si è comportato perfettamente che si vedrà alla fine che era tutto giusto tutto corretto noi ci tocca di dirlo ebbene se questo signore ci denunci ci querela la querela è una denuncia penale ci querela per diffamazione a mezzo stampa ipso facto comincia un procedimento penale quindi dopo un poco noi siamo verremo chiamati dalla polizia giudiziaria che prende le generalità e dopo o contestualmente ci chiedono di di nominare un avvocato il che significa nominare un avvocato che insomma gli avvocati come noi facciamo i giornalisti perché scriviamo degli articoli per dei giornali perché ci pagano pure gli avvocati quando prendono la difesa si fanno pagare quindi diciamo una denuncia una querela significa l'inizio di un procedimento la nomina di un difensore e l'inizio di spese spese in moltissimi casi personali perché una parte dei giornalisti italiani ha la tutela legale dell'editore una volta quando io ero giovane era circa la metà dei giornalisti italiani che aveva queste cose i grandi giornali i giornali regionali la RAI ecco quest'area si è sempre più ristretta e adesso prima o poi faremo un sondaggio più preciso una misurazione più precisa sono circa il 10% i giornalisti che hanno questo per cui quando devi nominare il difensore lo devi pure pagare di tasca tua ed è un grosso problema perché ognuno sa quello che guadagna però ci sono anche le statistiche ufficiali che sono state pubblicate dalla G.com che dicono che mi pare vado così a occhio che più dell'85% ha un reddito inferiore a 10.000 euro quindi si viene denunciati pur avendo agito correttamente nel rispetto della deontologia professionale essendo stati corretti senza trascendere perché uno magari può dire che non solo gli hanno fatto può dire a quel brutto scemo a dire quel mostro quelle cose insomma senza trascendere uno fa la cronaca come va fatta e viene querela e viene processato e comincia questo processo che dura anni quindi è un calvario pure che dura per anni quindi come vanno esattamente questi processi fino a tre a quattro anni fa non lo sapeva nessuno cioè nel senso che noi di ossigeno per l'informazione avevamo fatto delle stime che dicevano che la maggior parte finivano col proscioglimento che però c'erano anche delle condanne come sapete per questo reato si può essere condannati o a una multa che genere tra i 500 e i 1000 euro o alla pena del carcere ecco la pena del carcere per una serie di moltiplicatori che si innescano perché la diffamazione a mezzo stampa è una forma aggravata della diffamazione semplice ecco può essere applicata una pena fino a sei anni di carcere ora solo questo è una cosa che ha un effetto insomma l'hanno detto tutti gli studiosi tutte le organizzazioni internazionali è una spada di Damocle come si dice in inglese ha un chilling effect ha un effetto raggelante sulla raccolta di informazioni perché è evidente che un giornalista che sa che facendo il suo lavoro anche correttamente sarà può essere processato e rischia di essere condannato ad una pena carceraria e avrà diciamo una ritrosia a trattare le notizie più delicate per non dire che tenderà a rifugiarsi nell'autocensura allora noi dicevamo sì e noi ci risulta che vengono applicate pure le pene del carcere ebbene nel 2015 dopo che il Parlamento parlava da 20 anni di cambiare tutte queste cose la nostra squadra di ossigeno di cui fanno parte dei giornalisti esperti e dei legali siamo andati abbiamo sfidato il governo a tirare fuori dei dati i dati ufficiali perché sapete che ogni anno all'inaugurazione dell'anno giudiziario vengono presentate le statistiche su quanti furti quante rapine quanti condannati quanti prosciolti per questo per quel reato di questo non c'era traccia allora abbiamo lavorato per un anno finché il ministro dell'epoca Orlando ci ha messo in contatto con gli statistici del ministero della giustizia abbiamo lavorato con loro per alcuni giorni per trovi e hanno fatto una ricerca apposta perché questi dati non venivano neppure raccolti e non so se continuano ad essere raccolti o una cosa una tanto nonostante il Parlamento da più di 20 anni discuta che bisogna cambiare questa legge non esistevano i dati su questo è la nostra Italia insomma non esistevano e nessuno si era preoccupato di produrli allora noi insomma siamo riusciti ad avere questi dati e questi dati che adesso poi vi do solo il senso poi guardiamo le diapositive che dicono i numeri precisi insomma sostanzialmente dicono che il 98% dei querelati per diffamazione a mezzo stampa 98% vengono prosciolti alcuni in istruttoria cioè dal giudice per le indagini preliminari e sono circa il 70% 71% e gli altri al processo ci rimane quell'8% che vengono condannati perché c'è pure chi sbaglia non è che i giornalisti in quanto giornalisti possono fare quello che ci sono quindi che non si comportano bene o sbagliano perché si può diffamare qualcuno sbagliando perché non si è stati abbastanza attenti perché non si è messa la e come sapete come quando si guida no e si fa un tamponamento insomma uno si prende la colpa però guardate c'è una bella differenza con quello che succede con la diffamazione a mezzo stampa nella quando noi facciamo l'incidente con l'automobile veniamo condannati per colpa quindi c'è un dolo non c'è un dolo c'è un dolo generico non c'è negligenza potevamo stare più attenti dovevamo stare più attenti però non c'è una intenzione di fare male no perché se noi andiamo addosso all'altra macchina volontariamente perché vogliamo fare del male a quelli che stanno in quella macchina ecco veniamo accusati di un'altra cosa veniamo accusati no perché quello è un dolo intenzionale proprio no quindi non è più colpa ma è dolo ebbene nella diffamazione a mezzo stampa in Italia questo reato è concepito a che è in ogni caso doloso cioè se voi avete sbagliato a copiare dalla lista degli arrestati il nome di uno e ci avete messo il nome di un altro per carità avete sbagliato è colpa vostra però venite poniti in questa forma grave come se l'aveste fatto apposta e venite puniti con un reato con un reato cioè in forma penale mentre diciamo per il tamponamento c'è una si pagano i danni si paga una multa e la cosa finisce lì no e non solo mantenendo questo paragone per i danni che noi produciamo per colpa cioè perché non siamo stati abbastanza attenti perché non abbiamo vigilato abbastanza e così via perché ci siamo distratti cioè quindi senza intenzione di fare il danno noi ci possiamo assicurare e invece per i reati non ci possiamo assicurare quindi la diffamazione è un grosso problema che produce abbiamo detto non ho detto il numero ancora produce ogni anno 6.000 querele più altre mille cause civili per danni quindi sono 7.000 procedimenti ogni anno e quindi abbiamo detto il 98% vengono prosciolti e rimane però il problema che i soldi che abbiamo speso in moltissimi casi per la difesa in moltissimi casi rimangono a carico nostro ecco questo è uno dei grandi problemi che ci sono gli altri che vengono condannati così chiudiamo il panorama sono ogni anno 450 455 secondo le statistiche che noi abbiamo e sono in gran parte giornalisti perché poi non sono solo giornalisti però sono quasi tutti giornalisti giornalisti blogger piccoli editori eccetera e direttori molti direttori responsabili quindi 450 condanne di cui 155 ogni anno appene carcerarie detentive mediamente di 8 mesi ciascuno facendo il calcolo di 155 per 8 mesi viene fuori la bella cifra di 103 anni di detenzione ogni anno in Italia noi abbiamo pubblicato questi dati e abbiamo presentato anche l'anno scorso o due anni fa due anni fa mi pare qui a Firenze insieme al presidente dell'ordine dei giornalisti i dati specifici della Toscana che confermano questo andamento generale che vi ho detto e che poi adesso vedremo se abbiamo il tempo anche nelle diapositive che abbiamo qui che dicono i numeri precisi e il dato specifico del condanne al carcere in Toscana è condanne al carcere complessivamente di 7 anni ogni anno quindi questo è il problema e come vi ho detto e qui torniamo diciamo al tema principale di cui stiamo parlando è questo quindi i giornalisti vengono processati perché hanno danneggiato la reputazione di qualcuno però come vi ho appena detto il 92% vengono prosciolti vengono prosciolti perché in base ad un articolo del codice penale l'articolo 51 del codice penale che dice che l'esercizio di un diritto l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude della punibilità è quella che gli avvocati chiamano scriminante cioè noi abbiamo fatto una cosa che per cui veniamo processati perché è configurata come un reato però poi il giudice stabilisce che avendo noi esercitato questo diritto che non è un diritto così astratto ma è un diritto intanto previsto richiamato dalla legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti che dice che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo interrogabile rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ma più in generale questo diritto in base al quale noi esercitiamo la nostra professione raccontando anche fatti di personaggi pubblici che vorrebbero che non si sapessero i fatti loro e previsto i richiami sono in questo volantino in questi due volantini che non so se avete avuto se no prendeteli all'ingresso sono previsti richiamati dall'articolo 21 della Costituzione che non parla di libertà di stampa ma parla di diritto di espressione di cui la libertà di stampa è una componente essenziale ma sono configurati ancora a livello più generale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'articolo 10 allora eccoci qui di fronte al quadro quindi riprendo l'affermazione iniziale noi giornalisti quando ci mettiamo a raccontare i fatti di interesse pubblico di personaggi pubblici possiamo essere processati perché questa attività dalla nostra legislazione è configurata come un reato l'abbiamo appena detto e è una situazione come vedete da che cosa è previsto questo dalla legge sulla stampa che è una legge che risale al 1948 è una legge che il parlamento italiano da 5 6 legislature è impegnato a correggere ma non la corregge mai ed è una materia questa su cui il parlamento italiano non ha mai legiferato perché la legge sulla stampa non è stata fatta dal parlamento italiano ma è stata fatta dall'assemblea costituente quindi prima ancora che fosse eletto il primo parlamento italiano e questa legge questo carattere restrittivo e punitivo verso i giornalisti risente molto dello spirito che c'era in quel momento quando fu fatta la legge sulla stampa perché come sapete l'Italia fu liberata nel 1945 con la sconfitta del con la liberazione dell'Italia che era invasa dall'esercito nazista e con la caduta della dittatura fascista quindi si torna alla democrazia quindi la cosa più importante che si fa è la scrittura di questa costituzione che dice proprio questo che non è più come ieri se voi leggete l'articolo 21 della costituzione guardate che è scritto in un modo come se stessero rispondendo a qualcuno che gli dice ma no no non si possono più sequestrare i giornali non c'è bisogno di è proprio quasi una narrazione dialogica a dire no no non è più così anzi adesso si può fare tutto senza chiedere il permesso perché prima bisognava chiedere il permesso c'erano gli uffici dei censori in tutte le questure italiane e chi pubblicava un giornale prima di stamparlo doveva portare le bozze lì dove c'erano i censori quelli che facevano di mestiere proprio questo costo che avevano un grande pennarello nero che guardavano le cose e quelle cose che non gli piacevano li sbarravano e figuratevi per i giornali all'ultimo momento i fatti uscivano dei giornali con gli spazi bianchi poi quelli che non rispettavano questa cosa venivano sequestrati nelle edicole nelle librerie eccetera quindi quella articolo 21 dice non è più così allora l'assemblea costituente dopo una discussione che è molto bella su cui forse bisognerebbe anche ripubblicare quelli che furono i lavori per scrivere l'articolo 21 perché c'erano grandi personaggi che si impegnarono in questa cosa e furono fatte anche alcune proposte che poi furono accantonate all'ultimo momento che sarebbero utili perfino oggi quindi ne parleremo magari un'altra volta comunque lo spirito fu quindi adesso basta quindi avevano tolto il tappo dalla bottiglia ecco fatto questo gesto liberatorio e le stesse forze politiche ebbero paura che che avessero fatto troppo perché c'era anche uno spirito di di grande scontro politico c'era paura di una restaurazione fascista che c'erano i comunisti che facevano paura quindi c'era questo click quindi l'assemblea costituente che si doveva sciogliere subito dopo la l'approvazione della legge sulla stampa decise di restare in carica per qualche settimana ancora perché doveva fare assolutamente due cose la legge sulla stampa e tanto per cambiare una legge elettorale perché se no non si poteva votare e quindi nel giro di un mese fecero questa legge sulla stampa che rispetto a quella cosa che vi ho detto l'articolo 21 della Costituzione che dice no non è più così si può fare si può fare si può fare ecco invece la legge sulla stampa dice però cioè mette un centinaio di paletti tutti messi così perché e rimette in particolare ad esempio ai direttori responsabili perché crea questa questione che il direttore responsabile il direttore responsabile legale il direttore responsabile risponde di ogni parola pubblicata e infatti abbiamo moltissimi direttori responsabili pubblicati e sono loro che rischiano più di tutti di andare veramente in carcere come qualche volta succede per un cumulo di condanne perché come sapete se ti condannano a un mese poi a due mesi poi a tre mesi quando superi nell'arco di un certo periodo il limite di due anni due anni e mezzo non è più la condanna diventa esecutiva e quindi metto tra parenti dico il caso Sallusti insomma che è del 2012 Sallusti che vi dico l'opinione che abbiamo noi che aveva sicuramente sbagliato non è che non è che si fosse comportato nel modo migliore meritava una condanna però non meritava la condanna al carcere ecco perché per noi noi lo abbiamo difeso come difendiamo tutti quelli che sono condannati al carcere perché è come tagliare la mano a uno che ha rubato una mela due mele anche un chilo di mele dieci chili di mele ecco noi siamo contrari alla pena di morte siamo contrari al taglio della mano così come siamo contrari a una punizione così sproporzionata per questo reato quindi questo è il il problema del del carcere allora che cosa vorrei fare una similitudine tra la nostra professione e altre professioni allora noi giornalisti in base a questa ah ecco no devo aggiungere un'altra cosa la legge nacque così molto punitiva proprio perché si voleva dare un segnale fortissimo in un momento in cui c'era paura che scoppiasse una rivoluzione una reazione una sovversione totale quindi non solo si mise la pena del carcere ma si punì la diffamazione dal mezzo stampa in modo severissimo perché sei anni di carcere non erano previsti neppure per le rapine ecco quindi è una legge che risente molto dello spirito del tempo e poi però non è stato più possibile cambiarla nonostante ha prodotto degli episodi anche clamorosissimi ci fu nel 53 ad esempio una condanna che diciamo queste discussioni che noi abbiamo avuto sul caso Sallusti nel 2012 già ci fu nel 53 per una condanna del giornalista Giovannino Guareschi che era il sapete noi lo conosciamo come l'autore di Peppone e Don Camillo lui era direttore di Candide era un giornalista di destra insomma lui aveva fatto un'inchiesta in cui accusava il presidente del consiglio Alcide De Gasperi di avere mentito su sulle trattative che c'erano state tentativo di fare di intavolare delle trattative con con l'Inghilterra prima della fine della guerra e che c'era stato un carteggio di cui lui diceva che era in possesso e in effetti lui aveva delle lettere che dicevano queste cose e De Gasperi lo querelò ci fu il processo e lui fu condannato perché poi poi risultò che queste lettere erano apocrifi ma risultò pure che Guareschi era in perfetta buona fede e quindi lui risultò fu condannato a tre anni più di tre anni di carcere e andò in galera e gli proposero fu una cosa che insomma se ne discuteva come del giro d'Italia di questa cosa fece molto scalpo insomma gli proposero pure di chiudere la partita con una richiesta di grazia che insomma che sarebbe stata accolta ma lui si rifiutò e fece più di mille giorni di carcere durante i quali queste cose furono discusse contro discusse e noi siamo ancora qui a parlarne va bene allora il Parlamento come vi dicevo non se ne è occupato mai nel senso che ha discusso tanti provvedimenti però non ne ha approvato mai nessuno ad esempio nell'ultima legislatura c'è stato discusso questo progetto di legge che si proponeva perché tutte le organizzazioni internazionali dall'OSCE alle Nazioni Unite eccetera chiedono di depenalizzare cioè di togliere completamente la pena del carcere di regolare la partita come avviene in molti paesi col processo civile come un illecito punendo i casi che meritano come meritano ma senza sproporzione sulla legge in discussione al Parlamento si sono applicati tutti le istituzioni internazionali noi di Ossigeno abbiamo pubblicato pure un dossier con tutti i loro proprio sulla legge che era in discussione il Parlamento però non ha voluto depenalizzare dice che in Italia non si può fare tutti i paesi insomma lo stanno facendo non l'hanno fatto tutti però tanti paesi una delle ragioni per cui dicevano che non si poteva fare ci dicevano perché bisognerebbe depenalizzare pure l'insulto e questo proprio non si può fare di depenalizzare l'insulto e noi dicevamo perché finché due anni fa il Parlamento ha depenalizzato l'insulto e lo ha fatto perché è arrivata una direttiva del Parlamento europeo una legge quadro del Parlamento europeo e in 4 e 4 hanno depenalizzato però la diffamazione a mezzo stampa rimane un reato in tutta questa situazione e comunque la legge diciamo che era in discussione non era la soluzione del problema perché sostanzialmente si proponeva c'erano vari aspetti c'era anche qualche aspetto positivo però la cosa più dura era più concreta era che si proponeva di togliere la pena del carcere e però di aumentare le multe di 15-20 volte lasciando sempre questo carattere che comunque anche se hai sbagliato senza volere è come se l'avessi fatto apposta su questa questione ad esempio la Commissione parlamentare antimafia che ha fatto una relazione bellissima nel 2015 sulla situazione del giornalismo italiano insomma vi invito a leggere la trovate negli atti parlamentari ha fatto una proposta precisa ha detto veramente bisognerebbe una proposta che noi di ossigeno condividiamo pienamente bisognerebbe sdoppiare spacchettare come dicono loro il reato di diffamazione a mezzo stampa allora bisognerebbe questa parte di diffamazione che avviene senza volerlo per un errore per negligenza per così per colpa come si dice allora puniamola comunque come un illecito ma senza cose gravi invece quella che noi chiamiamo la macchina del fango quella sì allora facciamo un reato che oggi viene punita come una forma di diffamazione aggravata perché non c'è un qualcosa che lo distingua no e quindi quella sì quello siamo tutti d'accordo cioè perché quella che chiamiamo la macchina del fango sostanzialmente è l'uso dell'informazione giornalistica come un'arma impropria no come uno che piglia un coltello da cucina e ammazza qualcuno no ecco quello non è che ha fatto uno sbaglio no ecco il giornalismo serve per altre cose se chi usa il giornalismo per queste cose si merita sicuramente può darsi che ci voglia veramente il carcere facciamo un reato però attualmente è sbagliato quindi si discute non si è fatto mai nulla chi è che ha cambiato negli anni questa legislazione è stata la la corte di cassazione che è intervenuta come in altre materie sapete quando il legislatore non arriva a un certo punto i giudici devono risolvere dei casi e allora ci sono dei casi particolari che loro risolvono con sentenze che che fanno giurisprudenza cioè hanno valore di legge sostanzialmente riempiano dei vuoti legislativi e questa nel 1984 la Cassazione proprio su questa materia ha fatto due sentenze che fissano proprio hanno diciamo hanno aiutato pure la categoria dei giornalisti che da sola non si era data nessuna regola precisa in queste materie perché sapete che tutte le carte deontologiche sono nate dopo sono nate dopo questa cosa quindi questa sentenza d'ecalogo ha il merito sicuramente di avere cominciato a mettere un po' di ordine e di avere fissato dei criteri interessanti però ha anche dei limiti perché che sono dovuti al fatto che certamente la Cassazione la magistratura con le sentenze può riempire alcuni vuoti ma non può sostituire il legislatore perché i vari aspetti richiedono degli aggiustamenti delle compenze ebbene così eppure per queste sentenze che comunque dicono come si devono scrivere le notizie adesso che richiedono che ci sia una forma civile io richiamo solo a grandi grandi nomi una forma civile cioè di rispettare le condizioni sono l'utilità sociale dell'informazione cioè se una informazione non è di utilità sociale ad esempio che la vicina di casa va a letto con l'idraulico che può essere di interesse del condominio però non è di interesse se invece diciamo l'assessore che sta facendo la campagna contro la prostituzione e queste cose va fa cose di questo tipo quello sì perché è di utilità sociale sapere qual è la coerenza e la credibilità del soggetto l'altra è la verità oggettiva o soltanto puntativa dei fatti che raccontiamo e l'altra è la forma civile dell'esposizione che si coniuga poi con una serie di cose con suggerimenti insomma perché questa sentenza per chi non l'ha ancora letta insomma cercate la trovate pure su internet è molto molto interessante perché fornisce pure delle indica dice di evitare il sottinteso sapiente cioè quell'ironia per cui si dice e non si dice ah come non lo vogliamo dire no quelle forme così che sono possono essere diffamatori gli accostamenti suggestionanti cioè quando si mettono accanto delle cose senza con l'aria di non volerle però suggerendo il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato quando uno dice ah una cosa veramente inquietante o quelle cose lì eccetera ecco vedete questa è la situazione in cui siamo allora che cosa si può fare di fronte a tutto questo intanto che effetti produce tutta questa cosa abbiamo detto tutti quei processi che ci sono voglio aggiungere prima di dire quali sono le cose che si possono fare si potrebbero fare se tutti cominciassero a chiederle così con coerenza con serietà il problema è che è aumentato di anno in anno l'uso pretestuoso a scopo intimidatorio punitivo di ritorsione delle querele per diffamazione per cui ci sono processi che si fanno solo per fare spendere dei soldi al giornalista per metterlo in angoscia per fare queste cose allora ci sono delle cose che si potrebbero fare non si fanno per e adesso vi dirò quali sono quelle principali non si fanno perché manca la volontà politica però guardate che manca pure la volontà di noi giornalisti di difendere la praticabilità di questa professione perché vedete altre professioni prendiamo quella dell'avvocato sapete che l'avvocato mentre difende un suo cliente può offendere insultare diffamare chi vuole e non è perseguibile per questo c'è una legge istitutiva dell'ordine degli avvocati che dà queste e altre prerogative ecco i giornalisti sono come i pompieri che devono andare a spegnere il fuoco però non gli danno neppure gli stivali e la giacca coibentata e invece si può fare e si deve fare allora le soluzioni sono queste la prima è che bisogna dare ai giornalisti uno stato giuridico corrispondente ai doveri sociali che hanno quindi bisogna fare come si fa ad esempio per gli agenti di polizia che controllano il traffico che alzano la paletta e fermano una macchina e fino a quando lo dicono loro tu devi stare fermo lì che gli dai gli fai vedere tutti i documenti che vogliono dopodiché se hai voglia di dire che hai fretta che hai un appuntamento che assicuri che è tutto in regola eccetera e se dopo ti azzardi a denunciarli perché ti hanno privato della libertà personale facendo questa cosa la tua denuncia viene presa e buttata nel cestino subito non dopo sei anni di processo come allora questa cosa è possibile si può fare anche in Italia se si vuole fare noi ad esempio adesso pubblicheremo nel giro delle prossime settimane un rapporto che abbiamo fatto che si basa su 20 interviste e in particolare sui problemi legati all'informazione sulla mafia le difficoltà e tutte però si sviluppa ad esempio questo problema ebbene fuori ad esempio da parte di personaggi molto autorevoli queste proposte ad esempio bisognerebbe bisogna trovare il modo di proteggere così come si fa con gli agenti di polizia che fermano le macchine proteggere i giornalisti dalle cause dalle querele impropri perché se tu dai una notizia di pubblico interesse non è che ci vuole adesso un magistrato questo vedete come io sono come sapete sono siciliano sono lavorato molto a Palermo ho seguito molto le informazioni sulla mafia ecco vedete come prima che facessero l'articolo 416 bis quello che ha istituito il reato di associazione mafiosa era molto difficile condannare i mafiosi perché ogni volta era come se bisognava dimostrare l'esistenza della mafia ogni volta ogni volta per ognuno anche se ce n'erano tre nello stesso processo per ognuno bisognava dimostrare poi hanno fatto questo benedetto articolo per il quale hanno ammazzato decine di persone che si sono battute per fare queste cose giudici parlamentari e così via giornalisti e quindi le cose si possono fare costano poi certo ci sono anche cose più tecniche che si possono fare sicuramente questa legge carogna che c'è adesso si può cambiare si deve cambiare però è quasi secondario rispetto a tutto il resto perché oggi io ho sentito pure gli interventi le discussioni prima di questa e voglio concludere dicendo questo noi parliamo come ossigeno per l'informazione che è un osservatorio non vi ha fatto vedere le diapositive ve li farò vedere un'altra volta noi noi parliamo di queste cose e delle minacce noi ne abbiamo documentate una per una 3.722 negli ultimi 12 anni continuiamo a fare diciamo ecco noi mostriamo non è che diciamo che il problema è tutto qui noi diciamo guardate questa è una una ferita sanguinante e allora come tutti gli ospedali per prima cosa si curano le ferite sanguinanti no perché se no poi non ci si può occupare neppure di di interventi per migliorare l'aspetto per aggiustare il nasino per fare intanto si devono curare le figure le le ferite ecco queste sono le ferite sanguinanti che sia queste ferite sanguinanti questi problemi producono dei feriti dei malati nella nostra categoria che hanno bisogno di essere assistiti non possiamo parlare solo di algoritmi no io sono appassionatissimo della discussione avrei potrei parlare per un'altra ora anche io per dirvi quello che penso vi dirò soltanto questo io penso appunto che noi ci dobbiamo fare tutti carico come categoria come cittadini come lettori di questi problemi studiarli ancora di più accorgerci che l'Italia forse è l'unico paese europeo mi pare di avere capito in cui non non sono nati ancora quegli organi di controllo della qualità dell'informazione di autorregolazione che sono i press council che sono qualcosa di più dell'ordine dei giornalisti sono qualcosa che che non è una giustizia domestica per cui i giornalisti danno ragione ai giornalisti gli avvocati danno ragione agli avvocati no sono degli organi cui ci sono rappresentanti dell'uno dell'altro da noi non ci sono da noi mancano tanti pezzi da noi e questo però magari ne discuteremo un'altra volta voglio solo dire che io concordo molto con le cose che ha detto il professor Ferrari nell'intervento precedente che lui lo diceva a proposito degli informatici dicendo tutti i limiti degli algoritmi lui diceva però qui c'è il problema anche di quelli che fanno gli algoritmi che siamo noi informatici che dovremmo avere una formazione più etica e dei vincoli etici rispettati e con possibilmente un controllo sull'adempimento ecco vedete per noi giornalisti questo è il mio proprio pensiero personale il problema è esattamente uguale perché noi soffriamo di tanti problemi che vengono dall'esterno però noi guardate ci abbiamo messo del nostro nella crisi in cui siamo adesso perché a forza di abbassare il livello di rispetto dell'etica professionale a forza di accettare di mischiare notizie con non notizie cose verificate che con cose non verificate di ricopiare le cose una volta facevamo dalla televisione adesso dai social e da tutte queste cose ci siamo molto dequalificati abbiamo contribuito ad abbassare la qualità dell'informazione e quindi diciamo abbiamo pure questo problema grazie grazie Alberto Spampinato che è il direttore dell'osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia che si chiama Ossigeno per l'informazione con Alberto abbiamo celebrato otto anni di digit nel senso che lo stesso Alberto e lo stesso laboratorio che guida era con noi nella prima edizione che abbiamo fatto a Firenze esattamente otto anni fa che guida